Ma cosa devo dire amichevolmente? Capisco che Casino debba fare il suo mestiere, certe parole sono un po' forti, non ridire, in un contesto politico di sinistra, progressista, di centro-sinistra, noi abbiamo portato l'Europa dell'Euro, mentre Pierferdinando inorridiva assieme a Berlusconi quel periodo lì. Noi un passo forte l'abbiamo fatto, credo che in Europa se ne ricordino e anche nelle situazioni nuove dove una volta non c'era il PD, adesso c'è il PD, credo che possano essere rassicurati sulla barra saldamente europeista, rigorosa, ma riformatrice che noi vogliamo mettere.